C'è una grandissima soddisfazione, sono veramente felice perché oggi non è soltanto un nuovo inizio, ma dimostra che il lavoro che abbiamo messo in campo ha già prodotto dei risultati, perché per i primi dieci pari sono già le assegnazioni in corso e ora abbiamo deciso di raddoppiare altri 20. Per me oggi è un motivo di grande soddisfazione perché io vi avevo detto all'inizio del mio mandato, parlando della difesa, è un dovere civico, un dovere patriottico per la difesa non tenere ciò di cui non ha più bisogno. E ho trovato una nuova disponibilità nelle forze armate che finalmente hanno davvero collaborato in modo pieno al progetto di valorizzazione di beni che sono stati importanti per la difesa in passato, ma che ora invece hanno perso la loro funzione fondamentale.